Leonardo Silva Revisore Avete mai pensato come i vostri gesti quotidiani possano essere opportunità per un grande cambiamento? Vi do una buona notizia. Oggi tutti voi siete protagonisti, i protagonisti di un'opportunità di crescita sociale. In che modo? Provate a pensare alla realtà quotidiana a voi più vicina, agli oggetti e alle azioni che compite tutti i giorni. Vi alzate, vi preparate, mettete le vostre cose in una borsa e uscite per andare al lavoro. Ora pensate a una realtà quotidiana a voi molto lontana. Il carcere, appunto. Se vi chiedo di pensare al carcere, cosa vi viene in mente? Mura, cancelli, rumori, chiavi, dolore, rabbia, persone. Già perché in carcere ci stanno persone. Quindi, come stanno in relazione le nostre azioni quotidiane, gli oggetti che usiamo tutti i giorni e le persone in carcere? La relazione nasce dal fatto che in carcere alcune persone, attraverso il lavoro, producono oggetti per il nostro uso quotidiano. e di questo io mi occupo. Lavoro in carcere da 15 anni. Non sono agente di polizia penitenziaria, non sono un funzionario pubblico, ma sono la presidente di una cooperativa sociale e ho scelto di lavorare in carcere. L'ho scelto perché volevo contribuire a rendere effettivo il principio di rieducazione della pena, che è già prescritto dalla nostra Costituzione. L'ho scelto perché credo che il carcere non possa e non debba essere solo un luogo di esclusione, di reclusione, di punizione. Già, ma lavorare in carcere è difficile. Noi, con la cooperativa, il lavoro ce lo siamo dovuti inventare. Era il 1995. A Venezia ci sono due carceri. Al carcere femminile alla Giudecca abbiamo iniziato a inventarci il lavoro a partire dal contesto. Un ex convento con un bellissimo giardino abbandonato. Ci sono voluti molti anni, lavoro, fatica, ma quel giardino oggi è un orto biologico certificato di cui le donne detenute si prendono cura e coltivano ortaggi e erbe officinali. Vicino all'orto c'era un edificio, anche quello abbandonato, e lì abbiamo allestito un moderno laboratorio di cosmetica per trasformare le erbe officinali in prodotti di bellezza. il lavoro è lo strumento che noi mettiamo a disposizione delle persone in carcere, degli uomini e delle donne che vogliono cambiare. Attraverso il lavoro si dà un'opportunità di rimettersi in gioco, di vedere la propria vita in un'altra prospettiva, di sperimentare relazioni diverse, di scoprire interessi nuovi, di avere anche un reddito, ma un reddito pulito di cui andare fieri e attraverso questo reddito una nuova dignità. Ecco allora che una borsa fatta in carcere da semplice oggetto contenitore diventa un simbolo, un simbolo di cambiamento e un messaggero di storie. Ecco che un cosmetico è simbolo di cura, della cura interiore prima ancora che di quella esteriore. Io chiamo questi oggetti ambasciatori perché sono ambasciatori del lavoro, ma ancora di più sono ambasciatori di quel percorso di crescita e di cambiamento che le persone che li producono stanno attraversando. Nel senso comune si tende a pensare che il carcere sia qualcosa che non ci riguarda. è altro da noi. Con la cooperativa abbiamo voluto invece aprire un canale di comunicazione tra l'interno e l'esterno, tra il mondo recluso e il mondo libero. E per farlo le collaborazioni con la nostra città sono sempre state fondamentali. Tantissime sono le persone che hanno collaborato, i detenuti, le detenute, volontari, professionisti, collaboratori, che hanno messo a disposizione il loro sapere, hanno donato le loro idee per far crescere il nostro progetto e rinnovarlo nel tempo. Sono ormai più di vent'anni. Vi racconto adesso l'ultima particolare collaborazione che abbiamo avuto l'anno scorso. Abbiamo incontrato Mark Bradford. Mark Bradford è un artista, un artista contemporaneo tra i più importanti al mondo. era a Venezia per rappresentare gli Stati Uniti alla Biennale Internazionale di Arte. Ma lui voleva avere un impatto sulla città che andasse oltre il circuito chiuso del mondo dell'arte. E così ha cercato, cercato nel tessuto della nostra città e ha incontrato il nostro progetto. Gli è piaciuto così tanto che ha voluto collaborare e ha voluto esserne parte lui stesso. Abbiamo avviato una collaborazione che si chiama Process Collettivo. Process Collettivo parte dal principio di ascolto, ascolto dei bisogni delle persone in carcere. Bisogno di lavoro, certo, ma anche bisogno di essere visti, bisogno di essere presi in considerazione. E sul principio di ascolto, costruire un'offerta, offerta di opportunità. Ma i principi vanno poi resi concreti e dalla concretezza siamo partiti. Abbiamo aperto assieme un punto vendita di prodotti fatti in carcere, in centro storico a Venezia. Un luogo dove i detenuti non sono più solo i produttori nascosti, sono essi stessi i rappresentanti, i testimoni del loro lavoro e trovano in quella sede anche opportunità di incontro e di scambio con il mondo libero. Ecco dunque la buona notizia. Adesso è nelle vostre mani. essere agenti di cambiamento può essere semplice, come diventare consumatori consapevoli e scegliere dei circuiti virtuosi. Essere agenti di cambiamento può voler dire volgere lo sguardo là dove nessuno guarda e portare le proprie idee, portare le proprie passioni, portare il proprio lavoro. Io spero che l'arte, la musica, il lavoro e le passioni di ognuno possano alimentare i tanti progetti che, come il nostro in tutta Italia, fanno vivere le persone in carcere in modo diverso, per farle uscire diverse. Pensate che tra chi in carcere fa percorsi di rieducazione il tasso di recidiva si abbassa dal 70% fino al 20%. Su una popolazione detenuta di più di 50.000 persone vuol dire decine e decine, centinaia di persone che uscite dal carcere non torneranno a delinquere. Pensateci. Grazie.